Buonasera a Maurizio, eccolo qua! Buonasera a Fabio, buonasera a tutti. Ciao Maurizio, grazie! Ti abbiamo tenuto... Ciao, grazie a te! A quest'ora, eccolo qua! Il tritolo e le rose, martedì prossimo. Martedì prossimo. Allora, in un titolo con due parole hai raccontato le direttrici dei tuoi anni 90, sostanzialmente, no? L'attentato di Via Fauron e l'amore per Maria. Esatto, perché il 14 maggio del 1993 graziosamente la mafia per le trasmissioni che avevo fatto mi ha regalato una macchina con 70 kg di tritolo. soltanto che quella sera io sono seduto in macchina con Maria, l'autista, il cane, ha girato da un'altra parte e la macchina non era la stessa di sempre. Questo ha un po', per fortuna, frastornato, chi doveva premere il pulsante e quando l'hanno premuto ne avevamo già girato l'angolo. però la polizia ha fatto, a Nettuno, delle prove se non avessimo girato quell'angolo saremmo senza testa. Maria, io, l'autista e il cane. Quindi mi è andata molto bene e quindi, d'altra parte, guardie e ladri. Io attaccavo la mafia e la mafia se l'è sentita. Tu ti aspettavi, Maurizio, in quegli anni dopo quelle trasmissioni che ovviamente io mi ricordo bellissimo, con Santoro, ti aspettavi, non dico un attentato, ma una reazione dura? Avevi avuto segnali? No, no, avevo ricevuto delle lettere anonime dove graziosamente c'era la mia testa su un vassoio. Io l'avevo passata alla Vigos, alla polizia. Però sinceramente non me l'aspettavo. Negli anni a seguire si è saputo che erano venuti al Parioli anche Mattia Messina Denaro, l'unico latitante ancora c'è di mafia, e altri, perché loro pensavano di farmelo sotto casa, ma la fortuna ha voluto che quando mi hanno seguito, io quella sera ero andato a trovare il ministro degli interni, Scotti, e quindi hanno visto che c'era una camionetta della polizia, hanno detto no, questo vive che è una camionetta della polizia sotto casa, no. Poi c'è stata una diatriba fra Corleonesi e non mi ricordo chi, fra Riina, Santa Paola, non so bene, e poi ha prevalso la linea Bagarella, eccetera, e quindi mi hanno messo 70 kg di titolo. Senti, io direi di vedere queste... Io quando faccio stato il processo... Scusa, scusa, dicevi processo? Dimmi. No, quando c'è stato il processo, alcuni di loro erano dietro a sbarro, io ero libero. Certo, certo. E vivo. Certo, per fortuna. Io direi, per parlare ancora del tritolo, poi arriviamo alle rose, di vedere queste immagini che appunto riassumono quei giorni, quell'attentato, mostriamole, mandiamole in onda. Maurizio Costanzo. Ecco, dal Teatro Parioli di Roma accendiamo la luce per Libero Grassi. Lo Stato, con chi sta e che fa? Lo Stato siamo noi. È troppo comodo sostenere che lo Stato non funziona. Accendiamo. Li condanna gli altri? Certo, certo. Lei li condanna? Sì, sì, sì. È stata probabilmente un'autobomba la causa della violentissima esplosione in via Ruggero Fauro a Roma. L'obiettivo era il giornalista Maurizio Costanzo. Nel momento in cui avviene lo scoppio, l'auto che trasporta il giornalista e la lancia di scorta che l'è subito dietro hanno appena svoltato un angolo. Il giornalista, la compagna, la scorta si salvano per un soffio. Poteva essere una strage. L'intera zona viene sconvolta. Maurizio, dici nel libro che, per fortuna... Ma sai... Sì, prego. No, no, dicevo grazie di aver rimandato l'immagine di Falcone perché è sempre bello rivedere una persona come Falcone e poi hai rimandato un attimo della Madonia che era parente di un grande boss Madonia e quella forse è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Per quello l'abbiamo messa. Mi hanno detto agli inquirenti perché io avevo insistito con lei a dire ma perché non si dissocia perché non si dissocia dalla mafia e quindi può essere... Mi dico, no? Senti, nel libro tu dici che per fortuna quell'attentato non ha provocato morti ma che se ci fosse stato anche un morto non avresti più fatto questo lavoro. Sì, è vero. Quella sera, quelli giorni a seguire io ho chiesto molto a un maggiore dei carabinieri che seguiva queste indagini di dirmi se c'erano feriti gravi o peggio per mia fortuna no. Non c'erano feriti gravi c'erano tutti feriti e poi Ciampi poi Presidente della Repubblica che era Presidente del Consiglio venne a vedere in via Fauro il palazzo che era stato danneggiato dalla bomba dai Tritolo e agevolò facilitò la rimessa a posto lì del palazzo. No, per fortuna non c'è stato nessun morto. È vero io lo penso ancora adesso non avrei sopportato l'idea che per il mio lavoro un estraneo innocente perdeva la vita. Senti Maurizio a proposito a proposito del tuo lavoro parli nel libro di molti incontri e persone anche Berlusconi dici che lui ti raccontò di volere fare politica tu dici ti rivelò che lo faceva perché era inseguito dalle banche e tu gli hai detto che non l'avresti mai votato come l'ha presa? No, no io gli ho detto guarda e gli ho detto lui lo sa che è ancora così io non ti attaccherò mai ma non ti voterò mai sono passati un po' di anni non l'ho attaccato mai non l'ho votato mai e quindi e noi facciamo questo accordo senti cosa vuol dire che cosa significa che tu e i Poo avete la stessa sorte che siete dei long seller chi? non so non ho capito Fabio che tu e i Poo i Poo dice che siete dei long seller che avete la stessa sorte i Poo dice che siete dei long seller che ho letto ho letto una cosa e qui dici ma io sono come i Poo siamo dei long seller non finiamo mai abbiamo una carriera infinita beh anche questo è vero i Poo ogni 5 minuti dicono ci lasciamo poi fanno una riunione e ricominciano io per fortuna per continuare non devo dirla a nessuno basta che l'editore mi faccia accendere la telecamera su di me e continua a fare questo lavoro d'altra parte tu hai avuto prima il grande Morricone Morricone ancora oggi a 90 anni scrive io personalmente devo un Morricone se è telefonato l'unica canzone che ho scritto che si è telefonato che la musica è sua le parole erano mie di Chico De Chiara ecco io credo che l'unica legge per non invecchiare per non avere le cosiddette demente senili sia quella di continuare ad avere progetti e a continuare a lavorare non c'è nient'altro non c'è cura non c'è niente che non questo ecco senti Maurizio infatti io abbiamo dedicato a te e ai personaggi del Costanzo Show questo montaggio per rivederne alcuni di quelli che hai incontrato che hai inventato che sono diventati familiari a tutti grazie e li mostriamo prego poi c'è Luciana che vuole entrare grazie prego grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti